A rivelare la top 10 delle destinazioni più popolari dell'Italia Pasqua 2023, Sky Scanner, piattaforma dedicata alla ricerca di voli, che evidenzia una forte domanda per i viaggi durante le festività di quest'anno. Da una nuova ricerca emerge che più di un italiano su due, il 55%, ha pianificato di trascorrere la Pasqua fuori porta, con una durata media di viaggio di 3-4 giorni. La tendenza è ulteriormente confermata dai dati interni a disposizione della piattaforma, che mostrano come quest'anno il 92% degli italiani stia cercando viaggi di una settimana o meno. E tra le destinazioni più popolari dell'Italia, Pasqua 23, in compagnia di mete come Barcellona, Roma, Amsterdam, Lisbona e Madrid, ci sono anche Palermo e Catania, nella top 10 delle città preferite dagli italiani e dai turisti, che in queste ore sono numerosi nei centri cittadini. Del resto, il tipo di viaggio preferito per questo weekend è quello dedicato ai soggiorni culturali ed enogastronomici. Anche per questo domani, nel giorno di Pasqua, gran parte dei gioielli del capoluogo siciliano saranno aperti al pubblico. Tra i luoghi di culto, la cattedrale, la chiesa di San Domenico, casa professa, il Duomo di Morreale, l'Oratorio dei Bianchi e il Santuario di Santa Rosalia. Tra i palazzi storici, l'Osteri, Palazzo Mirto, Palazzo Branciforte, il Castello a Mare. E poi i musei CON, tra gli altri. Il Museo archeologico Salinas, il Museo d'Arte Contemporanea, Palazzo Riso, il Museo delle Marionette, chiuso a Pasqua ma aperto il lunedì di Pasquetta, dalle 10 alle 14. e il Museo Diocesano fa eccezione la Galleria d'Arte Moderna che per problemi di personale e di straordinari domani sarà aperta, ma fino alle 12.30.